Lucravano sui migranti nei centri di accoglienza 5 arresti a Benevento, tra questi un carabiniere e alcuni dipendenti pubblici, assegnazioni pilotate e numero degli ospiti gonfiati. Le accuse per i PM gli ospiti vivevano in condizioni disumane. Alessandra Barone. L'impero costruito sui migranti contava 13 centri con circa 800 richiedenti asilo. Il consorzio Maleventum di fatto deteneva il monopolio della gestione dell'accoglienza a Benevento e in provincia. Al vertice Paolo Di Donato, finito ai domiciliari con gravi accuse, tra le quali truffa ai danni dello Stato, falso, corruzione, misure cautelari anche per un funzionario della Prefettura, un impiegato del Ministero di Giustizia, un carabiniere e un imprenditore. 36 gli indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Benevento, partita nel 2015 da un esposto. L'operazione è eseguita dalla Digos con i carabinieri sanniti e del NAS di Salerno. Secondo l'accusa, il sistema criminale lucrava sulle assegnazioni pilotate dei migranti e sulla falsa attestazione di presenze con la connivenza dei dipendenti pubblici. Molti rifugiati che risultavano ospiti delle strutture in realtà erano già andati via. Per gli altri non venivano garantite condizioni di vita adeguate, costretti a vivere ammassati in piccole stanze, con servizi igienici insufficienti e pessime condizioni sanitarie. Per questi motivi cinque centri erano già stati chiusi dalle forze dell'ordine negli ultimi mesi. C'è stato sostanzialmente un arrembaggio e c'è stato un arricchimento. Qui i migranti sono parti offese, sono le vittime di questo sistema. Grazie a tutti.